Tra le visioni manicomiali, come le ha definite Remo Bodei, che circolano ubiquitariamente intorno alla figura dello Hegel, vi è anche quella secondo cui Hegel sarebbe stato un fascista in pectore e di più avrebbe anticipato con il suo movimento di pensiero filosofico-politico i totalitarismi del Novecento, poco importa se rossi o neri. Ebbene, noi sappiamo che questa visione di Hegel è del tutto infondata e anzi risponde, per menzionare ancora il prima citato Remo Bodei, a una forma di stigmatizzazione a priorica il cui fine è semplicemente quello di rendere impossibile un serio confronto con lo Hegel liquidato a prioricamente come autore indegno di un confronto serio, appassionato e filosoficamente confronto. Noi sappiamo che il pensiero di Hegel sul piano filosofico-politico non soltanto non si pone come totalitario, contrariamente alla vulgata che tale lo presenta, ma addirittura può, a giusto titolo, essere assunto come un antidoto rispetto alle forme di totalitarismo poco conta se rosso o nero. Infatti, se leggiamo con attenzione la Rex Lehre, la dottrina del diritto di Hegel, nelle sue varie esposizioni, culminanti poi nella forma pubblicata con i lineamenti di filosofia del diritto del 1821, sappiamo bene che lo Hegel non presenta mai in forma totalitaria, come usa dire, lo Stato. Nella misura in cui la forma dello Stato, che pure si presenta come compimento della sitlichkeit, della vita etica, come momento dell'idea del bene che realmente vive ed esiste e come summa dell'eticità, come sintesi suprema della vita etica, ebbene lo Stato, così inteso in Hegel, non può mai neutralizzare la libera individualità delle particolarità soggettive. Tutto al contrario, Hegel insiste a tambur battente su come compito prioritario dello Stato sia quello di garantire, tutelare, assicurare la piena realizzazione di ogni libertà individuale, mediante quegli enti etici e comunitari, dalla scuola pubblica al sindacato e a tutte le altre radici della vita etica, come Hegel le chiama, le quali altro compito non hanno se non quello di permettere l'eguale libertà di ciascuno, mediante forme di Stato sociale, di riconoscimento dei pieni diritti sociali di ciascuno, mediante la realizzazione di una comunità solida e solidale, che le sole leggi del mercato, contro il pensiero liberale, oggi triunfante, che presentano il sistema dei bisogni del mercato concorrenziale come panacea di ogni male, ebbene queste forme di pensiero finiscono in realtà, suggerisce Hegel, non già per realizzare la libertà degli individui, ma per generare funeste forme di polarizzazione della società che presentano appunto un arricchimento illimitato per una parte sempre più ristretta e una pauperizzazione ogni giorno crescente per un'altra parte sempre più estesa, che può in ultimo culminare nella genesi di quella che Hegel, con sguardo rivolto all'Inghilterra, chiama la plebe, la massa degli esclusi, dei non riconosciuti nelle strutture della società. Ebbene, il compito prioritario dello Stato, Deus mortalis, come Hegel lo chiama richiamandosi a Tommaso Hobbes, è quello di garantire l'eguale libertà di ciascuno. Ricorre con una certa frequenza nei testi hegeliani la critica, spesso svolta con una forma di sferzante requisitoria, i danni delle forme premoderne, non solo di Ancien Regime, ma anche le forme greche, segnatamente quella platonica, di concezione dello Stato o della polis come totalità soffocante nelle sue spire la libertà dell'individuo. Hegel, a più riprese, insiste criticamente sul fatto che Platone, che pur ebbe il merito di puntare alla realizzazione della bella eticità, non di meno finì nel realizzare tale obiettivo per sopprimere la libera soggettività degli individui, in ciò peraltro rivelandosi figlio del suo tempo, di un'epoca che ancora, non essendo pervenuta alla modernità, non aveva scoperto la libertà soggettiva come principio fondativo. Ecco perché nei lineamenti di filosofia del diritto lo Hegel ci ricorda come in Platone manchi intieramente il riconoscimento della libertà e addirittura la famiglia finisca per essere sciolta nell'ambito della potenza etica dello Stato. Ebbene, Hegel insiste senza sosta sul fatto che la grande scoperta irrinunciabile dei moderni sia quella della libertà soggettiva individuale. Lo Stato, così come lo concepisce Hegel, non è pertanto lo Stato platonico che soffoca le libertà individuali nell'ambito di una totalità concepita come indistinta, o per impiegare la metaforica utilizzata ai tempi della fenomenologia, ai danni dello Schelling, come notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui la pluralità delle parti sparisce nella totalità indistinta. Al contrario, il vero Stato moderno al quale Hegel punta, identificandolo con il compimento dell'eticità, è uno Stato articolato nelle sue parti, sicché lo Stato si configura non già come negazione delle parti sull'altare della totalità, bensì come nesso dialettico e vivente tra parti e totalità, come realizzazione delle parti nella totalità, o se si preferisce come totalità non negante le parti ma realizzante le parti come nel loro rapporto dinamico con la totalità stessa. Questo è il principio fondativo dello Stato moderno al quale Hegel senza sosta si richiama. Per questo Hegel insiste sul fatto che la famiglia e la società civile, ossia le altre due figure cardinali dell'eticità, non possono essere riassorbite e dissolte nello Stato. A questo proposito è interessante ricordare, en passant, la polemica a distanza che contrappose nella nostra Italia Antonio Gramsci e Giovanni Gentile, entrambi richiamantisi allo Hegel sia pure con posizioni e perspettive diverse. Gramsci accusava al Gentile l'aver di fatto neutralizzato nello Stato governo le altre parti dell'eticità, quindi in primo luogo la società civile. Ebbene, se noi sciogliamo e riassorbiamo le parti, le altre figure dell'eticità nello Stato, giungiamo de facto a uno Stato autoritario che neutralizza la libertà degli individui. E' ciò che appunto si ha con il sistema di Gentile, il quale in un suo intervento importante a un congresso hegeliano di Berlino, nel 1931, sulla concezione hegeliana dello Stato, accusava apertamente Hegel di non aver risolto adeguatamente la famiglia e la società civile nello Stato, e di averle anzi mantenute come separate e non risolte integralmente in esso. Ebbene, questa che a Giovanni Gentile poteva apparire una intrinseca mancanza dello Hegel, pare a noi invece il punto di forza del suo sistema, ciò che garantisce il fatto che nella filosofia politica dello Hegel sia sempre riconosciuta, pur in un impianto valorizzante il momento etico comunitario e la potenza eticizzante dello Stato come compimento della vita etica comunitaria, non di meno tutelante e valorizzante anche le parti, gli individui, nella loro insopprimibile libertà. Hegel insiste in maniera, potremmo dire, ripresa e sempre di nuovo rinnovata, sulla libertà individuale come bene insopprimibile, che è compito dello Stato non già annullare ma valorizzare, a differenza addirittura della tradizione liberale che finisce per dissolvere gli individui nella misura in cui ne affida l'esistenza e la sussistenza al libero giuoco del mercato, che può talvolta produrre tragedie nell'etico che dissolvono intere porzioni di individui sacrificandoli sull'altare dell'andamento ondivago incerto del mercato, compito dello Stato invece, dice Hegel, è garantire, a prescindere dall'andamento del mercato e quindi mediante il riconoscimento di una superiore saggezza e di una superiore potenza dell'etico dello Stato rispetto al sistema dei bisogni stesso, compito appunto di quest'ultimo lo Stato è riconoscere la piena libertà degli individui quale che sia la loro collocazione nello spazio aperto e conflittuale, agonistico e concorrenziale del mercato o sistema dei bisogni, come Hegel lo chiama, quella bestia selvatica, così negli scritti jenesi, che deve essere disciplinata e mansuetata, ossia controllata dalla potenza politica. Per tutte queste ragioni possiamo dire che il sistema di Hegel, lungi dall'essere liberticida, come surrettiziamente l'hanno presentato autori anche con provenienze prospettive molto diverse, come Norberto Bobbio negli studi hegeliani o come Karl Popper nella Società aperta e i suoi nemici, ebbene lo Stato hegeliano, lungi dall'essere liberticida e financo totalitario, è perciò stesso nella sua struttura una reazione improspettiva rispetto ai totalitarismi che infesteranno e coloreranno di lacrime e sangue il Novecento. Lo Stato etico hegeliano è il luogo in cui la libertà degli individui si compie mediante potenze etiche che la garantiscono e che la tutelano contro la forza anomica e inconfessabilmente ingovernabile del mercato e del libero gioco delle potenze concorrenziali. Quel sistema dei bisogni dominato, come Hegel va ripetendo, dalla forza del tutto separante dell'intelletto astratto, che separa le parti e le feticizza in atomi irrelati e chiusi in se stessi. Per questo con Hegel occorre più che mai tornare a pensare la relazione dinamica fra parti e intero, fra individui e totalità etica, non per precipitare nel totalitarismo, né tantomeno per permanere nell'anomia anarchica del commercio capitalistico, del libero sistema dei bisogni, bensì per trovare una superiore sintesi fra individui e comunità, fra parti e totalità. Ciò che ancora manca è che è merito intramontabile dello Hegel aver pensato, mettendoci in guardia, potremmo dire, rispetto alle derive novecentesche contemporanee, apparentemente opposte, in realtà dialetticamente correlate, dell'individualismo cinico del mercato concorrenziale, da una parte, e del totalitarismo delle collettività livellanti e neutralizzanti le individualità dall'altra.